in questo tutorial andiamo a vedere su bybit exchange come si effettua uno scambio fra cripto a mercato nel trading spot quindi siamo sul telefonino l'applicazione di bybit in basso a destra abbiamo il nostro portafoglio con all'interno le nostre criptovalute e noi dobbiamo avere i fondi all'interno del wallet trading e non del funding se per caso avessimo i fondi nel wallet funding andiamo semplicemente all'interno del wallet trading ci clicchiamo sopra una volta che siamo sopra andiamo su trasferisci e vi trasferite le monete che volete appunto dal wallet funding al wallet trading questa cosa potete farlo anche da diversi tipi di wallet all'interno di bybit potete spostare le criptovalute tanto entrare quanto uscire in questo caso esempio usdt voglio trasferire 50 usdt clicco su trasferisci fondi e in automatico mi trasferisce i fondi da un wallet all'altro in questo momento io posso andare allora tornare indietro andare sotto in basso dove c'è la sezione del trading del mercato quindi ci vado a cliccare sopra e posso scegliere i differenti mercati su cui lavorare qua in alto in questo caso scelgo spot nel mercato spot in alto a destra c'è la lanterna io esempio in questo momento voglio comprare dei matic clicco sulla lanterna scrivo la parola matic voi potete mettere qualunque criptovaluta la prima che mi dà è matic usdt io clicco sopra voi scegliete la vostra moneta e poi in questa schermata devo andare a scegliere come comprare qui posso tanto comprare bui quanto vendere sell e posso scegliere se comprare a limite mercato in tutti quanti gli altri modi in questo momento io scelgo a mercato cioè voglio comprare al prezzo di adesso non mi interessa perché perché mi servono i matic in questo caso allora io qua vado a chiedergli quanto posso o usare questa barra qua che mi fa usare tutti gli usdt oppure scrivere il numero degli usdt che io voglio comprare in questo caso voglio 50 dollari di matic a questo punto mi basterà cliccare sul tasto verde bui matic qua sotto una volta che clicco sul tasto verde ordine è stato creato ed è già stato eseguito in questo momento infatti se io torno in bassa destra nel mio portafoglio aggiorno la pagina e vado a vedere nella sezione del wallet trading all'interno del wallet trading mi trovo tanto usdt quanto i matic che sono riuscito a comprare con quei 50 dollari adesso se io volessi spostarli vado in trasferisci di nuovo vado a trasferirle a questa volta faccio cambia posizione cioè da questo wallet me li riporti sull'account gli usdt quindi massimo scrivo trasferisci clicco sotto e lui mi trasferisce gli usdt dal wallet di trading al wallet spot in questo caso di nuovo me li ritrovo qua e così la stessa cosa posso fare di nuovo trasferisci se voglio trasferire anche i matic ad esempio quindi di nuovo inverti le posizioni in alto scegli la moneta e qui vado a scegliermi matic metto massimo sposta di sotto nel wallet account in questo modo sono nel wallet account adesso con queste monete che mi ritrovo qua nel wallet account in home page spot wallet founding eccoli qua qua mi trovo le monete tanto gli usdt quanti matic così in questo caso voi tutte le monete che avete spostato le tengo qua le potrò mettere in staking o doppure le posso inviare a un altro wallet quindi io clicco sulla moneta vado sulla moneta qua sopra mi fa vedere le statistiche della moneta come sta andando la moneta cosa ci posso fare e sotto nelle voci o di nuovo la voce trasferisci il converti o doppure il withdraw cioè il prelievo quando vai su withdraw ricordati che quando trasferisci una qualunque moneta devi scegliere il network e qua sotto vai a sceglierti il network con le quali le vuoi trasferire avete visto in questo tutorial come si compra a mercato e cosa potete poi fare con le cripto valute che avete comprato